bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda l'evento della season 2 di questo capitolo 2 di fortnite e tutto quello che sta succedendo dalla patch 12.30 un sacco di roba da farvi vedere e di cui parlarvi volevo subito però ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul video delle 9.30 ma andiamo appunto a vedere di cosa tratteremo oggi si parla del doomsday event il giorno del giudizio universale tradotto in italiano rinominato proprio così nei file e anche della nuova arma che sta per arrivare non è un'arma come quelle che siete abituati che siamo abituati a vedere ma prima volevo farvi una domandina lo sapete ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto e oggi chiedo il vostro aiuto di solito vi faccio delle domande simpatiche divertenti curiose ma oggi vi chiedo te come cavolo fai a farmare punti esperienza avete delle strategie avete delle robe un po' strane che magari alcuni non sanno c'è dei percorsi perché lo sapete io ho un grande obiettivo in questi giorni quello di raggiungere il livello massimo il 340 per completare il colore oro della stile dello stile della gente bananita non riusciamo a fare meglio di 16 di 12 13 mila punti esperienza ogni 15 minuti facendo i nostri giri su rissa squadre se tu hai qualche idea scrivimelo qui sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito a vedere tutte le cose dedicate all'evento avete state leggendo ragazzi tre scritte doomsday device doomsday hatch doomsday door sono tre oggetti tre item presenti nei file di gioco dalla patch 12.30 ma prima di andare avanti con le immagini voglio farvi vedere mentre intanto vi parlo sotto quello che c'è ovviamente intorno all'agenzia lo abbiamo visto tutti anzi li abbiamo visti tutti sono un pochettino contesi questi sono degli aspiratori di acqua sono delle robe strane no ragazzi so che molti mi chiedete che cosa sono sono dei bunker quindi sono un rifugio e ce ne sono ben cinque come vedete ben solidi sul fondale di questo laghetto contornati addirittura da delle rocce e la domanda che ci chiediamo è ma questi bunker quale funzioni avranno perché sono lì sono dei bunker che servono per proteggersi saranno collegati tra di loro oppure aspireranno veramente l'acqua beh ragazzi ovviamente le domande che ci facciamo sono tantissime e quello che posso dirvi io è che sembra che stia succedendo l'impensabile vi spiego meglio midas non è ovviamente dalla parte dei buoni quindi quello che vuole fare midas in questa storyline della season 2 è il solito che vogliono fare un po tutti sia per quanto riguarda le storie di fortnite sia per quanto riguarda insomma la base generale di tutto quello che può concernere videogiochi film fumetti ovvero sia i cattivi vogliono distruggere il mondo e midas non è da meno perché il doomsday device non è altro che l'arma finale per la distruzione della mappa di fortnite e ne abbiamo anche alcune immagini come vedete è molto particolare è una specie di sfera gigante centrale sostenuta da quella che sembra essere una base che gli porta dell'energia vedete i cavi ragazzi che escono da sotto questo invece fa parte sempre dell'arma del doomsday e lo riconoscete anche voi è proprio la parte alta che si vede a filo dell'acqua lì intorno ai cinque bunker dell'agenzia mentre questa invece è proprio la parte principale del bunker quindi quello che voglio dirvi è quello che viene detto quindi guardando i file di gioco su according to the files l'arma del doomsday potrà essere vista direttamente nella lobby del pass battaglia mi spiego meglio anzi vi faccio vedere di nuovo qualche cosa ragazzi perché esiste un uno spezzone di quello che arriverà probabilmente nella sezione dove c'è il tavolo con tutti gli agenti guardate un po ragazzi sbada bada bam non si sa quando probabilmente dopo l'uscita di deadpool questo sarà lo screen principale che vedremo dove c'è appunto la sezione dedicata agli agenti e non si limita solo a quello guardate che storia è addirittura interagibile in questo momento noi ci stiamo passando sopra cliccando però sulla mappa sul tavolo ma se andiamo nella sezione dove potenziamo maya eccola qua ragazzi in tutto il suo splendore l'arma di distruzione del doomsday ovviamente si riconosce subito qualcosa di interessante e per interessante intendo la colorazione dorata che è ovviamente un chiaro segno che c'è midas dietro tutto questo è veramente una cosa incredibile e vi faccio notare anche quei cavi rossi che come vedete gli danno appunto alimentazione da dove arrivano che cosa fanno non lo sappiamo ragazzi non ne abbiamo assolutamente idea ma ci riporta la mente non so se anche a voi succede ai cavi che c'erano in season 9 e che davano l'energia alla ex tilted town ve la ricordate ragazzi quella che arrivò dopo pinnacoli a tema futuristico tanta tanta roba anche perché ragazzi se noi andiamo avanti e leggiamo tutto quello che è stato trovato nei file di gioco viene confermato che l'evento di questa season sarà concentrato sulla distruzione ovviamente della mappa saremo noi o gli agenti che dovranno impedire questa cosa andando avanti ci sono anche delle altre immagini molto interessanti e che ancora non possiamo vedere nei file di gioco che non possiamo vedere nel nella lobby nella nel game normale che trattano proprio le stanze segrete di midas quindi un altro fattore che ci lascia capire che midas si sta anche già preparando per proteggersi ovviamente dalla dall'attacco che lui stesso vuole afferrare vuole sferrare purtroppo la qualità di queste immagini non è delle migliori anche perché non ne esistono ad alta definizione è proprio una specie di bunker come vedete con un accesso all'esterno infatti lo notiamo da quella luce là in fondo e qua invece siamo in un'altra angolazione la domanda è da dove si raggiungerà questo bunker qualcuno ha osato dire potrebbe essere il bunker dietro la porta di ferro della montagna una delle grandi incognite di questo capitolo 2 di fortnite c'è da quando è uscita la season 1 non è mai stata aperta non si è mai capito che cosa c'è dietro potrebbe esserci il bunker di mida tra l'altro ci sono alcune lobby di alcuni giocatori che hanno già un bug ovviamente non poteva essere fortnite se non ci fosse stato il bug e come vedete abbiamo questa immagine che voglio farvi vedere potrebbe capitare anche nella vostra lobby che sotto la bacheca delle sfide giornaliere cominceranno ad apparire i cavi che porteranno appunto l'energia necessaria alla doomsday machine chiamiamolo un po come volete l'arma della distruzione abbiamo degli altri come si dice fattori degli altri elementi sempre nella lobby che ci indicano appunto dove andrà a finire questo è appunto il la parte alta destra della schermata principale come vedete ci sono anche lì altri cavi e addirittura nella schermata principale di selezione del personaggio capiterà anche che potremmo trovarli ma non si sa fra quanto insomma ragazzi l'evento è stato scoperto dobbiamo solamente capire in che modo fermare la macchina di distruzione di massa in che modo fermare midas e soprattutto se ce la faremo a fermarlo anche per oggi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato il video news mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali io sono in live su twitch ciao